Individuare sin da subito rendendola disponibile con l'apertura del cantiere un'area di parcheggio che sopperisca la diminuzione dei posti auto previsti dal progetto e quanto ribadito dall'associazione residenti San Cataldo di Bari che in un post pubblicato su Facebook è tornata a parlare della prossima pedonalizzazione dell'area di lungomare starita che passa attorno al faro. Poche settimane fa, lo ricordiamo, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del secondo contratto attuativo relativo alla riqualificazione e pedonalizzazione per un importo di 4 milioni di euro. L'area interessata dall'intervento corrisponde allo spazio pubblico connesso al giardino del faro. La delimitazione della zona pedonale sarà realizzata con dissuasori in pietra e di tipo pilomat pneumatici che apriranno un nuovo contesto urbano la cui pavimentazione in progetto è stata configurata con pendenze realze e tesi a creare uno spazio unitario. Lungo il percorso dello spazio pedonale sono previste panchine massello in pietra a forma di barche, portabiciclette e cestini portarifiuti. L'affaccio sul mare sarà connotato dalla sequenza di un sistema di panche di legno e ferro e dal sistema dei lampioni pubblici di tipo storico. Saranno inoltre piantumate delle palme. Il punto però già emerso da quando è stato eseguito il primo intervento sperimentale di restringimento della strada è quello della diminuzione dei posti auto del quartiere. Ecco che i residenti pur ribadendo il proprio apprezzamento per la riqualificazione hanno condizionato questa apertura all'individuazione per tempo di alternative per il posteggio delle auto e nel frattempo hanno domandato un'audizione con tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione. La cosa che ci preoccupa di più sono i parcheggi. Noi diciamo sì alla riqualificazione, sì anche alla pedonalizzazione del lungomare purché si trovi una soluzione per i parcheggi. Quando il presidente del terzo municipio era Massimo Spizzico fu chiuso un piccolo pezzo di lungomare, quello davanti ai ristoranti e alle pizzerie e fu aperto il parcheggio della Fiera del Levante proprio ad angolo con i ristoranti e ha funzionato.